Grazie di essere qui così numerosi e grazie davvero dell'aiuto, della stima, del sostegno che mi avete dato. Sono state settimane molto molto intense, abbiamo girato tutta la città, dico abbiamo perché vedo facce che hanno messo la loro faccia su questo progetto, i cittadini torinesi ci hanno dato fiducia, ci hanno premiato e questo deve essere un motivo di orgoglio davvero di tutti noi. Questo è stato un progetto del noi, non è stato un progetto di Stefano Lorusso, è stato un progetto del centro-sinistra, è stato un progetto in cui ciascuno ha fatto il suo pezzo e io questo sappiate che ce l'ho ben chiaro. Io non sarei stato eletto sindaco di questa città se ciascuno di noi che siamo qua questa sera e tantissimi altri in queste settimane non avessero speso la loro... è morto il coso... lasciatemi dire che se no non... così... allora scusa vengo qua dietro perché se no ci sono troppi fotografi e perde il segnale, perfetto. Allora io oggi una persona mi ha chiesto che cosa farò, allora io vi chiedo già da subito una cosa, statemi e stateci accanto, perché abbiamo un compito davvero complicato. Torino è una città che ha una situazione complicata, lo sappiamo bene, sarà durissima, ma ci abbiamo messo in questa campagna elettorale tutto il nostro entusiasmo, tutta la nostra energia, tutta la nostra forza, la nostra passione. Abbiamo fatto una grandissima cosa, non ci credeva nessuno, non ci credevano i sondaggi, non ci credevano gli analisti, abbiamo fatto una rimonta pazzesca e questa rimonta è stata possibile perché ci abbiamo creduto e siamo stati uniti e compatti. Allora non disuniamoci adesso, stiamo compatti, mi raccomando a tutte e a tutti e grazie davvero per quello che avete fatto per il centro-sinistra, per la città, non l'abbiamo fatto per una persona, non l'abbiamo fatto per noi stessi, l'abbiamo fatto per questa città che amiamo e alla quale dedicheremo tutte le nostre energie, tutta la nostra passione e tutto quello che possiamo dare. Io sono convinto che se lo faremo con questo spirito andremo davvero lontano e questa città potrà davvero tornare a ripartire grande, forte e unita. Grazie a tutti davvero. Grazie a tutti. Questa è simbolica, poi ne abbiamo per tutti, quindi fuori poi possiamo brindare davvero. Sendo ecologico lo metto in questo. Grazie.